Un felice sodalizio la collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile e le associazioni di volontariato e in particolare per quello che oggi ci interessa ANPAS. Un felice sodalizio perché il volontariato organizzato di protezione civile, che è una componente del più variegato mondo di ANPAS, è per noi oggi un soggetto e un punto di riferimento ineludibile e imprescindibile. Oggi il volontariato organizzato di protezione civile garantisce attraverso le associazioni e la sua presenza capillare sul territorio quella capacità del territorio stesso di essere resiliente e quindi per noi oggi più che mai avere rapporti con il mondo del volontariato organizzato di protezione civile, come dicevo prima, è un modo di rendere completo il servizio che rendiamo attraverso l'intera organizzazione della protezione civile nel nostro paese. Con ANPAS c'è un rapporto forte, un rapporto di leale e piena collaborazione, dall'ultimo dei volontari di ANPAS al suo presidente Fausto Casini che anche in questi mesi di mia gestione del Dipartimento non ha fatto mai mancare la sua collaborazione, il suo appoggio, i suoi intelligenti suggerimenti. Ma il volontariato organizzato di protezione civile non è soltanto la massa di manovra che siamo abituati a vedere nell'ambito delle disgrazie che periodicamente connotano la vita di questo paese, ma è sempre più un volano per quella cultura della consapevolezza a cui l'intero sistema della protezione civile sta tendendo. E mi piace in questa circostanza sottolineare l'impegno di ANPAS su questo importante settore, cioè sulla diffusione di una cultura di protezione civile. ANPAS in questi mesi in alcune realtà più a rischio del paese ha ideato, contribuito a questa campagna, una campagna che ha proprio l'obiettivo di sensibilizzare i territori e di sensibilizzare le popolazioni. Io credo che il nostro paese farà sicuramente un significativo passo avanti nel peraltro lungo percorso della storia della protezione civile allorquando ci sarà una diffusa cultura di protezione civile. E questa diffusa cultura di protezione civile deve necessariamente passare attraverso, come dire, un salto di qualità. Bisogna passare dalla cultura della speranza, della scaramanzia, dalla cultura fatalistica che gli eventi non accadono a una cultura della consapevolezza, alla cultura che impone ai singoli cittadini di conoscere i rischi che insistono nei propri territori a comprendere quelli che sono i comportamenti che devono essere tenuti, a essere parte e si stessi di questo straordinario mondo che è la protezione civile. E questa campagna di ANPAS si colloca perfettamente in questo solco e quindi ancora oggi io non posso che rinnovare i miei ringraziamenti, i miei complimenti a tutti quelli che all'interno di ANPAS, come dicevo prima, hanno immaginato, ideato, ma soprattutto realizzato insieme a noi questa importante tappa nel percorso della consapevolezza e della cresciuta consapevolezza che, come dicevo prima, è uno dei passi fondamentali se vogliamo veramente rendere il nostro Paese più sicuro. Che dire delle ultime polemiche o dei rumors che hanno immaginato, che hanno fatto ipotizzare il trasferimento del Dipartimento della Protezione Civile al Ministero dell'Interno. Credo, forse perché da quel ministero provengo e non solo provengo, io sono un prefetto della Repubblica, quindi a quel ministero non posso che guardare perché quello è il mio ministero, ma proprio forte di questa appartenenza e quindi forte del fatto che nessuno potrà mai sospettare che il mio giudizio è un giudizio di parte e men che meno un giudizio interessato, dico che questa opzione sarebbe un gravissimo errore. Il nostro Paese ha intrapreso con grande intelligenza e grande lungimiranza questo percorso che ha collocato in maniera assolutamente definitiva la governance, la cabina di regia del intero servizio nazionale di protezione civile all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Collocazione che l'intero mondo ci invidia, collocazione che garantisce quella autorevolezza e quella possibilità di indirizzo e di coordinamento pieno che solo la collocazione all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce. Come abbiamo detto e lo abbiamo detto in maniera assolutamente chiara, un ripensamento in tal senso sarebbe un gravissimo errore. Ovviamente, come poi ho soggiunto, essendo noi parte di questo mondo, che è anche mondo della pubblica amministrazione, ci atterremo a quelle che saranno le decisioni del nostro governo. Però nel momento in cui si è immaginato di poter decidere, non ci siamo sottratti alla responsabilità che immaginavamo ci coinvolgesse pienamente di dire la nostra. Quindi ribadiamo la necessità, l'opportunità che questa intelligente e lungimirante intuizione di 30 anni fa non abbia a essere rivista e soprattutto a essere rivista in termini peggiorativi. Grazie. Grazie.